Parte da Rezzo un progetto a favore delle gestanti della Sierra Leone, Africa Micaollus e la consorella Iocchi della Speranza con la collaborazione di Medici Senza Frontiere hanno infatti avviato il progetto Nuove strategie di approccio alla salute materno-infantile nell'ospedale di Cabala. È un progetto che rientra nell'ambito della cooperazione sanitaria internazionale della regione toscana che ce l'ha approvato e anche parzialmente finanziato, attraverso il quale noi vorremmo concorrere a migliorare in maniera sensibile il problema della salute materno-infantile all'interno dell'ospedale di Cabala attraverso una collaborazione con Medici Senza Frontiere che all'interno di quell'ospedale gestiscono questo servizio. Nello specifico con questo progetto che non si esaurisce nel settore materno-infantile ci sono anche tutta un'altra serie di attività che noi facciamo dal potenziamento dei servizi al miglioramento delle strutture interne, al miglioramento soprattutto degli impianti che sono veramente carenti cerchiamo di concorrere a migliorare complessivamente la situazione socio-sanitaria di questo Paese Peraltro questo è un Paese che è reduce da una epidemia drammatica che è quella di Ebola che ha ammietuto decine e centinaia di morti e quindi il nostro impegno si è concentrato principalmente nel settore sanitario e sociale proprio perché è quello uno dei settori che presentano le maggiori criticità. Martedì 26 settembre alle 18 nella sala consigliare del comune di Civitella in Val di Chiana infine sarà presentato il progetto. Civitella della Chiana fa parte dei nostri partner, sono otto esattamente e appunto proprio per questa ragione abbiamo individuato questo comune come uno dei luoghi dove disseminare un po' la conoscenza di queste attività che noi stiamo facendo. Grazie a tutti.